Ma secondo voi lascio senza prodottini i nostri amici a quattro zampe? Assolutamente non è possibile. Ed ecco che in Bioprofumeria Aquilana arrivano i prodottini anche per i nostri amici a quattro zampe. Andiamo a vedere cosa è arrivato. Allora, eccoci qua. Fluido, lisciante, senza risciacquo, nutriente. Olio, detergente, cute sensibile. Shampoo cuccioli, shampoo uso frequente, shampoo antiparassitario, guardate, guardate, burro di aloe, percute e polpastrelli. Poi abbiamo anche l'acqua profumata all'arancia e pompelmo. Abbiamo l'acqua profumata al melograno, balsamo scioglino di nutriente, olio antiparassitario, lozione repellente, shampoo manti bianchi, shampoo a secco, shampoo a secco, antiparassitario. Olio lisciante, lucidante per il pelo, è molto buono questo, è consigliatissimo. Shampoo manti scuri, shampoo solito cane e gatto, lozione sciogli nodi e gel lenitivo all'arnica. Mi raccomando, curate i vostri animaletti.